Musica con Marina Ciao bambini, ciao bambine, ciao mamme, ciao papà e bentornati tutti quanti a Musica con Marina. Oh, guardate chi c'è qua! Un bacino al mio bel orsacchiotto che oggi canterà una bella canzoncina insieme a noi. Allora, questa è una canzone che può andare bene sia per i bambini piccolini che per i bambini invece un po' più grandi. E allora, se siete grandicelli potete anche voi prendere il vostro amico speciale e fare tutto quello che faccio io. E se invece siete ancora piccolini, allora vi potete fare coccolare dalla vostra mamma o dal vostro papà. Allora, la prima cosa che faremo sarà dondolare così in questo modo a destra e a sinistra e poi mi seguite. Siete pronti? E poi cos'altro possiamo fare? Possiamo saltare! Pronti? Una bambina salta salta, una bambina salta qui, una bambina salta salta, una bambina salta qui. E adesso vediamo, che ne dite di volare, siete pronti? Una bambina vola, vola, una bambina vola qui, una bambina vola, vola, una bambina vola qui. E adesso vediamo, oh sì, l'orso acchiotto mi sembra un po' stanco e allora ancora possiamo magari fare delle coccole e ci riposiamo, che dite? Una bambina riposa, riposa, una bambina riposa qui, una bambina riposa, riposa, una bambina riposa qui. un altro bacino ecco mi sa che per oggi abbiamo fatto abbastanza però potete usare questa canzone anche con altri movimenti allora magari potete nuotare, potete girare e potete fare tutto quello che vi piace di più e allora adesso io e l'orsacchiotto vi facciamo ciao e vi auguriamo anche un buon anno e ci vediamo per il prossimo video ciao ciao